E' la storia più bella di questo mondiale 2022, è vero, la pole position di Kevin Magnussen che arriva dopo 139 gare nella sua carriera in Formula 1, prima pole position della storia per il giovanissimo team della Haas nato nel 2016, è vero, la qualifica, la pole position che vale solo a fini statistici visto che poi nella giornata di domani, di sabato, ci sarà la gara sprint che decreterà la grilla di partenza per la gara di domenica ma siccome la statistica soprattutto in Formula 1 è importante, questo è un giorno storico, è un giorno importante e anche in risposta a chi storceva il naso dicendo ma oramai con i mondiali assegnati cosa dobbiamo vedere? Beh, vediamo queste grandi imprese, questi grandi eventi sportivi che ci regalano tante emozioni il pubblico invisibilio per Magnussen, per Gunther Steiner, per un risultato che è frutto di un lavoro di un team umile che si è sempre accorciato le maniche per rientrare nel budget, un team piccolo che però ha sempre mostrato dignità e merito nel mantenere la categoria della Formula 1, devo dire che ho tifato e sperato che piovesse per favorire la pole position di Magnussen cosa è successo? Siamo in Q3, rimangono 10 macchine, entrano in pista, in condizioni di pista diciamo non proprio asciutte ma neanche di bagnato, diciamo umide, tutte con gomme di asciutto tranne Leclerc che entra con gomme intermedie tutti fanno dei tempi, Magnussen fa il miglior tempo, ad un certo punto Russell che in quel momento era terzo infatti partirà terzo nella sprint di domani, fa un errore, testa a coda e bandiera rossa nel tempo di attesa del ritiro della macchina di Russell butta giù tanta pioggia che dunque costringe tutte le squadre a non far valere la pena di uscire e dunque di regalare una meravigliosa pole position meritatissima in pista a Magnussen, straordinaria storia. Piccola annotazione per la Ferrari, Leclerc che è stato l'unico a uscire con gomme intermedie, gli ha fatto perdere tempo non solo fare il giro di lancio, il giro cronometrato perché doveva rientrare ma il team non gli ha detto in tempo quando rientrare, tutto tempo perso partirà decimo nella gara sprint di sabato, un pasticcio clamoroso, l'ennesimo stagionale in casa Ferrari